Se sei un amante degli animali, prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. In una cittadina chiamata Ellenwood, in Georgia, si trova il rifugio Clayton County Animal Control. Questo rifugio, con le sue pareti grigie, ha visto passare migliaia di anime pelose, ognuna con una storia diversa, ognuna in cerca di una seconda opportunità. Ogni giorno, i volontari del rifugio si adoperano senza sosta, cercando di offrire amore e cure a questi esseri indifesi, ma le risorse sono limitate e gli spazi sono sempre meno. Una delle realtà più dure con cui devono confrontarsi i rifugi come questo è l'enorme afflusso di animali, specialmente di quelli più anziani o malati, che, essendo meno attraenti agli occhi di potenziali adottanti, rimangono spesso indietro. Tra questi, c'era Jax, un cane dal pelo brizzolato e gli occhi lucidi, che mostrava i segni dell'età e di una vita trascorsa tra le durezze della strada. La situazione era diventata talmente critica che il rifugio aveva dovuto stilare una lista. Una lista che nessuno avrebbe voluto leggere, quella dei cani destinati all'eutanasia. Jax era uno di loro. Ma c'era qualcosa di particolare in lui. Forse era il modo in cui guardava i volontari ogni volta che passavano davanti alla sua gabbia, o forse era il modo in cui ogni notte si sdraiava guardando la porta, come se stesse aspettando qualcuno. Qualcuno che, forse, non sarebbe mai arrivato. Era diventato noto tra i volontari che Jax aveva questa strana abitudine di fissare il corridoio. Alcuni dicevano che forse stava aspettando il suo vecchio padrone, altri pensavano che sentisse che la sua fine stava avvicinandosi e sperasse in un miracolo. Ed è proprio quando tutto sembra perduto, che la magia accade. Una mattina, un post con la foto di Jax venne condiviso sulla pagina Facebook del rifugio, e in poche ore, divenne virale. La storia di Jax aveva toccato il cuore di molte persone. E tra quelle persone, c'era una signora di nome Isabella. Toccata profondamente dalla storia di Jax, decise che avrebbe fatto di tutto per dargli una nuova casa. E così, contro ogni aspettativa, Jax trovò una nuova famiglia. Un luogo dove i suoi giorni sarebbero stati aglietati da carezze, passeggiate nel parco e il calore di una vera famiglia. Una storia che dimostra che, anche nei momenti più oscuri, c'è sempre una luce in fondo al tunnel. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.